ragazzi buona serata da corrido allenato micchi cro che vi presenta lo shop di lunedì 27 settembre di Fortnite ragazzi andiamo subito a vederlo nel dettaglio ed eccolo prepotente che iniziamo con Giada rossa 800 VBAC ragazzi nei suoi tre stili per definito Giada blu e mostro macchie ragazzi 800 VBAC ragazzi nel set forza diffusa season 6 io ce l'ho già molto carina poi in una serie di mod svegliati 500 VBAC rolli 500 VBAC last forever altri 500 e nel modo molto sicconizzato che a me piace un sacco 500 VBAC il mio mondo ragazzi death assassin atletica 1200 VBAC abbinata all'osso creativo fondino all'ultimo grido ragazzi nei suoi vari stili per definito niente cappelle senza occhiali senza maschera e non a tutto ragazzi 1200 VBAC abbinata allo strumento di raccolta pon pon della distruzione 500 VBAC ragazzi ed ora si scende al bundle Aurelia ragazzi questi cinque oggetti 2200 VBAC la skin Aurelia il separativo Aurelia il piccone mazza frusto del tributo la copertura maledizione di sol e la schermata di caricamento tributo ragazzi 2200 VBAC per questi cinque oggetti ed ecco l'uomo oro ragazzi 2000 VBAC VBAC vendetta di mille a season 2 capitoli 2 abbinata all'osso creativo manto radioso 2000 VBAC nei suoi tre stili a redorato senza bagnole era in scheletro ed ecco il metaplano scheletro 1500 VBAC ragazzi ed ora si passeremo il contagioso da 500 VBAC ragazzi per la stagione X piedi piatti una skin da 1200 che io ho già con il dorso coltivo a portata di mano molto carina questa skin ed ecco il commando 800 VBAC della seconda nuova molto carina questa ragazzi ed ora si passa al pacchetto Ferrari riproposto grazie 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 Mimmo che me l'hai acquistato me l'hai regalato il pacchetto Ferrari rimangono tutte le skin del calcio ragazzi tutti a 1500 sia gli uomini che le donne per me la più bella è l'onda del campo guardate molto bella questo e poi una serie di emot del calcio pugno ad indifera 200 gioco di gambe elegante tutti due mi fosseggo 500 VBAC rimbalzi altri 500 questa è l'unica che non ho cartellino rosso 200 fuori le trombette anche 200 VBAC ed ecco Mike Lowry 1500 VBAC abbinato a dorso coltivo borsone dal betecchi guardatelo il borsone estamente un po' ingombante la skin però è molto carina ragazzi i suoi strumenti di della corta coltelli mina vagante 500 VBAC ragazzi ed ecco che rimane il bundle Venom ragazzi 2800 VBAC questi sette oggetti altrimenti due skin separate 2000 VBAC Eddie Brock e Venom la scia simbiotica grazie 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 Monki che me l'ha regalata grazie mille per oggi Monki che mi ha regalato anche un emote da 500 VBAC basta Monki è il bravo ed ecco che rimangono anche le skin street fighter oltre a Kami e Guile presenti da alcuni giorni hanno rimesso anche Ryu con il dorso decorativo e l'emote e Chan Lee dorso decorativo e l'emote lighting shape ragazzi il bundle di questi due e l'emote degli altri due sempre 2002 io rostamente se dovessi scegliere prenderei in uno cambio 1600 VBAC e nell'alto mi piace Charlie altri 1600 VBAC rimangono ancora Valenciaga ragazzi molto bello separate anche i maestri di magma 1499 rimane 2999 e se volete bene che chi ride ultimo ragazzi una carrellata veloce finale mi raccomando ragazzi lasciate un like alla live grazie a tutti quelli che sono iscritti ai nuovi siamo al 900 ragazzi dai dai ragazzi su condividete il video iscrivetevi al mio canale MickeyCraw attivate soprattutto la campanellina e lasciate like pollice a nessuno ragazzi ed ecco ditemi cosa pensate dello show di oggi ragazzi vi auguro una buona nottata da fuori dove è nato MickeyCraw attività vi voglio un mondo di bene ciao e dalla prossima ragazzi buona volta ragazzi gg vi auguro una buona nottata da fuori dove è nato